monia la ferrera e josh carter rossetti hanno annunciato la loro ennesima rottura ma sarà davvero la definitiva o ricomincerà il tira e molla le vicissitudini dei sergetti e della loro famiglia continuano a tenere banco sergio maria dottavi e greta rossetti hanno appena confermato il loro ritorno di fiamma dopo aver affrontato alti e bassi e voci di tradimenti la presenza costante di mamma marcella bonifacio ha alimentato le speranze dei fan fino a quando la coppia è riemersa insieme alla festa di compleanno di greta ma mentre una coppia si riavvicina un'altra si spezza monia legatissima alla famiglia rossetti ha annunciato sui social la fine della sua storia con josh segnata da alti e bassi che hanno fatto discutere le ragioni della rottura sembrano essere legate alle figlie di monia che rappresentano la sua priorità assoluta le foto di coppia tra monia e josh erano sparite già da tempo e la loro relazione era stata segnata da episodi che avevano fatto storcere il naso come la scena violenta del fratello di greta contro l'ex di monia o le minacce al giornalista gabriele parpiglia monia sembra aver preso una decisione definitiva ma considerando il legame con la famiglia rossetti non è escluso che possano esserci colpi di scena in futuro resta da vedere se questa volta la rottura sarà davvero definitiva o se il tira e molla conto Grazie a tutti.